Alle prime luci di stamattina è scattata l'operazione da parte dei carabinieri Limes, su ordinanza del GIP dove hanno arrestato a Belmonte Mezzagno nove persone, tra queste Agostino Giocondo, considerato personaggio di rilievo della famiglia con la quale avrebbe coordinato l'attività nei settori tipi di controllo di Cosa Nostra. Le accuse sono associazioni mafiosa, porto e detenzione di armi clandestine, a ricettazione. Nel corso dell'indagine, seguita da un pull di magistrati coordinati dal procuratore aggiunto Paolo Guido, ha riconosciuto i movimenti della famiglia di Belmonte inserita nel mandamento mafioso di Misilmeri Belmonte Mezzagno.